I cristiani nel Medio Oriente non sono un popolo a parte, fanno parte della cultura, del territorio come tutti, ma la loro presenza indica sempre un segno di pluralismo di cui il Medio Oriente ha sempre avuto cura e che oggi è necessario più che mai per via della tendenza al setterismo al quale abbiamo assistito in questi ultimi tragici anni nel Medio Oriente. Quindi è molto importante avere cura della presenza cristiana. E l'accoglienza degli iracheni, dei profughi iracheni, cristiani o non cristiani, è molto importante perché l'Iraq è un po' il simbolo delle ferite del Medio Oriente, delle divisioni, delle lacerazioni, anche dei fallimenti, se posso dire, anche da parte dell'Occidente. Quindi è un popolo molto ferito, molto umiliato, che ha bisogno del nostro sostegno. Grazie.